Sono stati inaugurati a Bibbiena dal sindaco e dal presidente del consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno gli interventi per la difesa dell'Archiano. Il suo carattere torrentizio si fa sentire e le sue acque diventano forti ed impetuose, tanto da mettere in difficoltà e scardinare un'opera idraulica, queste gabbionate che erano state fortemente ammalorate appunto dalla forza dell'acqua. Noi con un intervento di manutenzione ordinaria le abbiamo ripristinate e riportate alla propria efficienza. Lavori che hanno interessato anche la pista ciclopedonale Bonconte da Montefeltro che si trova lungo l'Archiano che collega Bibbiena a Partina. Con questa bella collaborazione siamo riusciti a realizzare questi lavori, il consorzio per la sua parte in autonomia per andare a riconsolidare quello che è la sicurezza del ponte di Camprena e poi insieme con una compartecipazione anche del comune di 50 mila euro il lavoro con massi ciclopici per andare a mettere in sicurezza questa sponda qui del torrente archiano in località Camprena ma anche ripristinare un tratto di ciclopista che era stato danneggiato ormai dai venti calamitosi di qualche anno fa. La situazione poi si era particolarmente aggravata dopo l'evento di piena del 16 dicembre al punto tale che il consorzio aveva dovuto riprogrammare un intervento molto più corposo. La ricostruzione è avvenuta con una fondazione molto importante per garantire stabilità in quanto l'Archiano è un corso d'acqua in profonda erosione quindi è importante effettuare delle opere che abbiano un piede molto più solido di quello che avevano in passato.